Ciao, benvenuti alla nuova playlist di iperuraneo chiamata mitografia, dove esploreremo i miti attraverso una lenta scientifica. In questa prima puntata nel dettaglio esamineremo i miti del diluvio universale presenti in tutte le conture del mondo. Sono storie affascinanti che hanno resistito alla prova del tempo, ma qual è la verità dietro queste leggende? Scopriremo insieme se esiste una base scientifica per questi racconti o se sono solo delle fantasie. Forse non tutti lo sanno ci sono più di 500 miti del diluvio in tutto il mondo e non è un caso che questo tema venga riportato quasi a livello mondiale, leviamo il quasi a livello mondiale e noi andremo ad indagare il perché. In questo viaggio mi accompagneranno come sempre Serena con vent'anni di meno e Mattia. Andiamo a presentare, a iniziare questa presentazione. Come vedete, come Ambiente ha scelto uno dei miti del diluvio più importanti, quello dell'arca di Noè. abbiamo messo pure una selezione di animali. Le misure che vedete sono in scala, riportate come quelle in Genesi 614, 137 metri di lunghezza, 22 di larghezza e 13 di altezza. ed eccoci arrivati. Sere ci sei? Sì, ci sono, ci sono, ecco. Ok, perfetto. Stavo guardando la parca che hai fatto, quindi tanti tanti complimenti. Stai guardando gli animaletti, vero? Sì. Ok, allora, eccoci qui. Iniziamo la nostra presentazione, appunto, intitolata il diluvio e i corpi celesti nei miti. L'ho fatta in modo, diciamo, cronologico, ecco. Partendo, per l'appunto, da l'epopea di Gilgamesh. Programmerò al mondo le imprese di Gilgamesh, l'uomo a cui erano note tutte le cose, il re che conobbe i paesi del mondo. Era saggio, vide misteri e conobbe cose segrete. Un racconto, egli ci regolò dei giorni prima del diluvio. Fece un lungo viaggio, fu esausto, consunto dalla fatica. Quando ritornò si riposò su una pietra e l'intera storia incise. Già da qui partiamo dai sumeri, quindi quella che secondo la storiografia è la prima civiltà antica ad aver avuto il dono della scrittura, ecco. Continuando, giustamente, sempre nell'epopea di Gilgamesh, la tavoletta 11 in particolare, parla proprio dell'arrivo del diluvio, dove dice che Appena spuntò all'alba, dall'orizzonte salì una nuvola nera. Il paese come invaso, egli ha spezzato. Per un giorno intero la tempesta infuriò. Il vento del sud si affrettò per immergere le montagne nell'acqua. Come un'arma di battaglia la distruzione si abbatté sugli uomini. A causa del buio il fratello non vede più suo fratello. Dal cielo gli uomini non sono più visibili, soffia il vento, infuria il diluvio, l'uragano livella il paese. Quando giunse il settimo giorno, la tempesta e il diluvio cessa la battaglia, dopo aver lottato come una donna in dolie. Si fermò il mare, il vento cattivo cessò e il diluvio si fermò. Io osservo il giorno, vi regna il silenzio, ma l'intera umanità è ridiventata argilla. Come un tetto è pareggiato il paese. E qui è Anki che, secondo i sumeri, scaglia la sua ira verso il genere umano sotto forma di diluvio. Adesso passiamo in Israele, questa è la genesi biblica, dove si parla di di Noè, che entra nell'arca con lui e i suoi figli, la conosciamo un po' tutti, vengono omessi degli animali e dopo sette giorni le acque del diluvio furono sopra la terra, nell'anno seicentesimo della vita di Noè, nel secondo mese e il diciassette del mese. Proprio in quello stesso giorno erupero tutte le sorgenti del grande abisso e le cataratte del cielo si aprirono. Quindi si potrebbe anche da qui già capire che non è un evento solo legato a una questione della terra in sé per sé, ma legato anche a qualche cosa di celeste, per così dire, ecco, esterno alla terra. Il diluvio durò sulla terra 40 giorni, le acque crebbero e sollevarono l'arca che si innalzò sulla terra. Le acque divennero poterose e crebbero molto sopra la terra e l'arca galleggiava sulle acque. Le acque si innalzarono sempre più sopra la terra e coprirono tutti i monti più alti che sono sotto il cielo. Le acque superarono in altezza di 15 cubiti i monti che avevano ricoperto. Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame e fiere, e tutti gli esseri che brulicano sulla terra e tutti gli uomini. Ogni essere che ha un alito di vita dalle narici, cioè quanto era sulla terra asciutta, morì. Le acque restarono alte sopra la terra 150 giorni. continuiamo. Qui siamo nello Shatapata Brahmana in India, quindi ci spostiamo un po'. Ascolta, presso Brahma il creatore si addormenterà e un enorme diluvio distruggerà la terra. Costruisci un'arca abbastanza grande da accomodare un seme di ogni tipo ai sette rishi, i sette comincerà a cadere ininterrotta. Entrate nella barca e aspettate. Io arriverò con l'acqua che sale dall'oceano. Lega l'arca alla pinna sulla mia schiena e vi condurrò in salvo. Manu fece come il pesce aveva spiegato e quando arrivò al diluvio universale per anni e anni la sua barca navigò sulle acque in tempesta. Quando tornò il sole non c'era che un'infinita distesa di acqua. Il pesce condusse Manu sulla cinema dell'Himalaya, unica parte della terra non sommersa dal mare. Dopo qualche tempo l'acqua cominciò a scendere finché di nuovo la terra comparve. Quindi già qua iniziamo a vedere come si spazia. Partiamo dalla Siria all'Iran, passando per Israele, arrivando in India, eccoci in Grecia. Deo Galone sul consiglio di Prometeo fabbricò un'arca, vi pose delle provviste e si imbarcò insieme a Pirra. Zeus rovesciò dal cielo una pioggia torrenziale, sommergendo la maggior parte dell'Ellade. Tutti gli esseri umani morirono, tranne pochi che trovarono rifugio sugli alti monti vicini, anche le montagne della Tessaia. Allora si separarono e tutte le terre che si trovavano al di fuori dell'Istmo e del Peloponneso vennero inondate. Per nove giorni e nove notte Deo Galione è trascinato sul mare dentro l'arca, poi approda al Parnaso. E qui, poiché le piogge erano cessate, sbarca e offre sacrifici a Zeus. Zeus gli manda a Hermes, invitandolo a scegliere ciò che desidera. Deo Galione sceglie di far nascere da lui una generazione di uomini. Zeus allora gli disse di raccogliere delle pietre e gettarle sopra la testa. Deo Galione lo fece e dalle pietre che scagliò lui naccero gli uomini, da quelle che scagliò perra le donne. Qui invece praticamente andiamo vicino alla mitologia norrena, dove questo libro di Sandback, Deo Eralinda Book, che è del 1876, ma lo trovate su internet tranquillamente, dice proprio che la terra ha cominciato a tremare come se stesse morendo. Le montagne si aprirono e vomitarono fuoco e fiamme. Alcune sprofondarono nel seno della terra e in altri luoghi i monti sorsero dalla pianura. Non è solo nella terra di Finda che la terra ha vomitato fuoco, ma anche a Twiskland. Molti paesi furono sommersi e in altri luoghi la terra si innalzò sopra il mare e il bosco fu bizzuto in metà dello Twiskland. Questo è un altro libro di Vitaliano Legends of the Earth, che è sempre facilmente reperibile, dove dice che in Cile, era riferimento al Cile, l'inondazione fu la conseguenza di eruzioni vulcaniche accompagnate da violenti terremoti. Quindi non è solo una questione di acqua, ma come vedremo poi in seguito, è una questione di acqua e fuoco. Qui ci spostiamo in Polinesia, dove, secondo questa leggenda che è Samoana, parla proprio del polpo ancestrale, i cui figli erano fuoco e acqua. La loro progene combatte una grande battaglia e tutto fu sommerso da un mare incontenibile e il dio Tangalo ebbe il compito di ricreare il mondo, per l'appunto proprio fuoco e acqua. Continuando questo libro di Clark, Indian Legends of the Pacific Northwest, dove si parla della leggenda di Thunderbird negli Stati Uniti, precisamente nello stato di Washington, dove Thunderbird una volta era così arrabbiato che mandò l'oceano sulla terra ferma. Quando raggiunse il villaggio dei Killaciute, salirono sulle loro canoe. L'acqua si alzò per quattro giorni, coprendo le montagne. Le barche erano disperse dal vento e dalle onde. Poi l'acqua si ridirò per quattro giorni e la gente si stabilì in molte zone. E qui siamo proprio dall'altra parte dell'oceano, quindi, sempre secondo la storiografia ufficiale, non c'è stato nessun contatto da quella che potrebbe essere la parte europea-occidentale con quella americana. E invece le storie ritornano sempre. Sempre dal libro di Vitaliano, sempre riferendosi allo stato di Washington, in una leggenda degli indiani immagati Cape Flattery, una volta l'oceano Pacifico si alzò e cadde più volte nel corso di pochi giorni. Prima l'acqua si alzò abbastanza in alto da isolare il promontorio dalla terra ferma, poi si ritirò improvvisamente lasciando Nea Bay alta e asciutta. Quattro giorni dopo raggiunse il livello più basso per poi risalire fino a quando il promontorio e tutta la terra ferma vennero sommerse. Tranne che le cime delle montagne, l'acqua che saliva era molto calda. Questo particolare da notare che l'acqua era calda e solitamente si sa che l'acqua negli oceani è quella più fredda che si possa incontrare, a meno che non si incontri giustamente una serie di correnti fortuite. Domande finora ragazzi? Nessuna per il momento. Ok, perfetto. Continuiamo questo qui al libro di Fraser, in folklore del Old Testament, anche questo si trova facilmente su internet, nonostante il libro di cento anni fa, dove parla del Bengala, dove i Santals, che sono appunto una razza aborigine del Bengala, hanno questa leggenda secondo la quale, nei primi anni del mondo, quasi tutta la ramazza umana fu distrutta dal fuoco o dal cielo. Quando Pilcio Aram e Pilcio Budi, il primo uomo e la prima donna, raggiunsero l'adolescenza, piove pioggia di fuoco per sette giorni e sette notti. Cercarono rifugio dal liquido che bruciava in una grotta e in una roccia, dalla quale, quando il diluvio finì, uscirono indegni. Ah, questo è il codice di Madrid. Messico, andiamo. Vi era pochissimo chiarore sulla faccia della terra. Era celata la faccia del sole e della luna. Ai tempi degli antichi, la terra si oscurò. Accadde che il sole era ancora splendente e luminoso. Poi, a mezzogiorno si fece buio. La luce del sole tornò solo il ventiseiesimo anno dopo il diluvio. Molta grandine, pioggia nera e nebbia e un freddo indescrivibile. La situazione ideale del Cosmic Winter, non so se ne avete presente. Qui andiamo sempre in America centrale, dove il Mechoacca Nesec, dove il dio Tetzalipoca decise di distruggere l'intera umanità con un diluvio, salvando solo un certo Zeppi, il quale si imbarcò su un grande vascello insieme alla moglie e i figli e una quantità di animali uccelli e scorte di granaglie e sementi, la cui conservazione era essenziale per la futura sussistenza del genere umano. L'imbarcazione si fermò sulla cima affiorante di una montagna dopo che Tetzalipoca aveva ordinato alle acque del diluvio di ritirarsi. Questo è sempre il libro di Fraser, della British Columbia. Tutte le persone, tranne alcune, furono distrutte in una inondazione che fu mandata dal cielo per punire il cattivo comportamento dell'uomo. Più tardi le persone furono devastate dal fuoco. La terra non aveva montagna o alberi prima del diluvio. L'Ecali creò dopo il diluvio. Questa è quando deve scendere dal vero e dal mitologico. Quando dice la terra non aveva montagna o alberi prima del diluvio. È inteso che col diluvio proprio è andato a cambiare tutta la conformazione di quello che era prima al mondo. Come ha detto prima il mito che ha appiattito tutta la terra, il mito sumero. Poi, qua continuiamo, andiamo in Argentina, la terra del fuego, dove dice che la donna luna causò il diluvio. Questo accadde al tempo del grande sconvolgimento. Luna era piena di odio verso gli esseri umani. A quel tempo annegarono tutti, eccetto quei pochi che riuscirono a scappare sulle cinque vette che l'acqua non sommersi. Il sole e la luna caddero dal cielo e il mondo rimase così, senza luce, per molto tempo, finché in due contor giganteschi riportarono sia l'una nel cielo che il sole. Allora, qui un libro di Geister, Meet Legends e Custom in the Old Testament, sempre che si può reperire facilmente su internet, facendo una ricerca anche su Google Libri, mi sembra questo nello specifico. Venne una grande inondazione, la gente sopravvisse su Zatter e Canoe, arrivarono le tenebre e i venti forti che dispersero le navi. Quando il diluvio si placò, gli uomini sbarcarono sulla terra più vicina e vissero dove erano sbarcati. Così furono dispersi in tutto il mondo e quando si incontrarono di nuovo molto tempo dopo, erano tribù diverse e parlavano lingue diverse. Questo, se ve lo ricordate, chi è un po' più pratico, ecco, magari nella lettura della Bibbia, è la stessa scena di quando Dio disperde i popoli nella Torre di Babele. Continuando qui andiamo in Grecia, il libro di T. Barnett, The Sacred Theory of the Heart. C'era una tradizione tra gli antichi greci di un cambiamento riguardante la posizione della terra e di conseguenza della forma e delle stagioni dell'anno. C'è stato un cambiamento dell'inclinazione e della posizione della terra. Qui andiamo, invece, a un libro di Coway, Unlaced Comet Legends Among the Great Lake Ojiba Indians. Praticamente, ecco, gli indiani Ojiba fanno parte di quella serie di indiani che vivevano nella parte dei grandi laghi in America del Nord. E parlano, per l'appunto, di quella stella, con la lunga e ampia coda, che distruggerà il mondo un giorno o l'altro. Quando scenderà di nuovo? È venuta una volta migliaia di anni fa. Proprio come un sole, irradiava un calore bruciante dalla gonna. La cometa ha bruciato tutto al suolo, non era rimasto nulla. Gli indiani erano qui, prima che ciò accadesse, vivevano sulla terra. Ma le cose andavano male. Gli uomini di medicina dissero a tutti di prepararsi. Le cose della natura erano sbagliate sulla terra. Tutti questi grandi animali stavano facendo a pezzi gli alberi, litigrando tra loro. Queste creature si mangiavano persino l'un l'altro. Avrebbero distrutto le foreste. Nessuno sarebbe sopravvissuto. Qui andiamo a Messico, il libro di Leon Portiglia, Mitologia Francia e Messico, dove parla di uno dei zari Pocas, erano quattro, si trasformò nel sole e creò i primi esseri umani per far vedere ai suoi fratelli. Gli altri dei, arrabbiati per la sua audacia, fecero distruggere a Quezza Goal il sole e la terra, cosa che fece con un diluvio. Gli uomini divennero pesci e questo mise fine alla prima era. Il secondo e il terzo quarto sole finirono, rispettivamente, con lo sgredolamento dei cieli, una pioggia di fuoco e venti devastanti. Secondo il calendario, questo calendario che riporta Leon Portiglia, siamo nel quinto sole. Questa è la storia dei primi quattro soli che ci hanno preceduto. Qui entriamo, ecco, sicuramente un personaggio più conosciuto come quello di Platone, dove nel libro di Giovit, The Dialogues of Plato, parla proprio di quella storia che presso di voi si racconta, vale a dire quella di Fetonte, viene raccontata sotto forma di mito, ma in realtà significa una deviazione dei corpi in movimento nei cieli intorno alla terra. È una grande conflagrazione di cose sulla terra che determina, in lunghi intervalli di tempo, la distruzione mediante una grande quantità di fuoco di tutto ciò che è sulla terra. Qui potremmo notare tante parole chiavi. Già il fatto che Platone sottolinea il fatto che non è un mito, ma una storia in sé per sé che parla di una catastrofe a livello cosmico che è successa in un periodo che è periodica perché parla di lunghi intervalli di tempo, mediante una grande quantità di fuoco di tutto ciò che è sulla terra, distrugge. Quindi già questo direbbe molto. La storia di Fetonte in particolare parla proprio di Fetonte che arrivò a metà della via e vedendo di essere molto lontano dalla terra si pentì di aver fatto questa richiesta poco saggia a suo padre, perché in precedenza a Fetonte aveva chiesto al Dio del Sole di farsi prestare il carro di soprate proprio per dimostrare che era un suo figlio, per dimostrare a tutti i suoi conoscenti, perché non credevano verità a questa storia che lo conosceva, che lui diceva, e per dimostrarlo si fece prestare appunto il carro. Il cocchio era fuori controllo e si avvicinò troppo alla terra, facendo così prosciugare i fiumi e i mari, incendiare il suolo e bruciare le foreste. Si dice che così diventò di colore nero la pelle del popolo degli Etiopi, che gli Etiopi a livello del racconto della Grecia non era solo l'Etiopia che conosciamo noi ma era una più vasta zona estesa. Avvenuto tutto ciò, madre terra, per porre fine alla sua sofferenza e distruzioni, decise di chiamare Giove, che scagliò un fulmine contro il carro facendolo sbalzare via e ponendo così fine al gigantesco incendio. Il corpo senza vita venne seppellito lontano dalla sua patria e sulla sua lapide scrissero, qui giace Fetonte, auriga del cocchio di suo padre. Seppure non seppe guidarlo e cadde, grande fu comunque la sua impresa. Si dice che il sole, affranto dal dispiacere per la perdita del fio Fetonte, non abbia illuminato la terra con la sua luce per un giorno intero. Qui torniamo nella mitologia norrena, dove il lupo Ferrir si scrollò e il mondo tremò. Il frassino Ictrasil fu scosso dalle radici fino ai rami più alti. Le montagne si sgridolarono o si spaccarono da cima a fondo. La terra cominciava a perdere la sua forma. Già le stelle scendivano alla deriva dal cielo. Quindi tornano sempre gli stessi elementi, come vedete. Qualsiasi paese andiamo, sempre acqua, fuoco e qualche cosa di cosmico che è accaduto. Questo è il racconto dei Gesuiti, dei primi Gesuiti, che quando ebbero l'opportunità di entrare alla biblioteca imperiale in Cina, doveva essere questo racconto che diceva che quando il genere umano si ribellò contro i sommi dei e il sistema dell'universo cadde nel disordine. I pianeti mutarono le loro orbite, il cielo si abbassò verso nord, il sole, la luna e le stelle cambiarono il loro movimento. La terra andò in pezzi e le acque delle sue viscere presero a scorrere con impeto verso l'alto e non dandolo. I cinesi grandi osservatori tra l'altro, perché se andiamo a fare l'esempio della cometa di Halle, la maggior parte dei, come altre stelle del resto di comete, ovviamente gli astronomi la maggior parte non sono riportati negli annali cinesi. Ecco che non ci hanno avuto quel, tra virgolette, imbastardimento del cattolicesimo. Qui andiamo sugli indiani opi. Il primo mondo fu distrutto per pulizione per la cattiva condotta degli uomini, da un fuoco vorace che venne dall'alto e dal basso. Il secondo mondo finì quando il globo terrestre si inclinò dal proprio asse e tutto si coprì di ghiaccio. Il terzo mondo finì in un diluvio universale. Il mondo attuale è il quarto. La sua sorte dipenderà dal fatto se i suoi abitanti si componderanno o meno secondo i disegni del creato. Quindi qua già dice, anche se è scritto come forma di vito da degli indiani in America, che non sapevano, non avevano il dono della scrittura a quant'altro, tramandato solamente, che già quasi dice che un fuoco vorace che venne dall'alto e dal basso. Quindi si parla di un impatto a livello cosmico e un vulcanismo superattivo o qualcosa a livello di tettonica, crosta oceanica, non lo so. Il secondo mondo finì quando il globo terrestre si inchinò dal proprio asse e tutto si coprì di ghiaccio. Questo potrebbe essere un chiaro riferimento a cicli di Milankovic a livello scientifico. Il terzo mondo finì in un diluvio universale. E anche qui abbiamo delle prove scientifiche perché si riferisce al momento dello Younger Dryas che forse non tutti conoscono, ma sarebbe la fine dell'ultimo periodo glaciale che ha passato la Terra e da cui poi è nata tutta la nostra civiltà. A proposito di questo, a proposito di questo, volete qualcosa se ne si? No, no, volevo solo... mi basta l'attenzione il fatto che da questi miti si passa dai primi che parlano appunto di catastrofi di fuoco, di acqua e poi in queste ultime che stai leggendo e portando all'attenzione entrano in gioco anche altre precisazioni, cioè vale a dire l'orbita della Terra, lo spostamento dei pianeti, le stelle che cadono, l'asse che cambia la sua inclinazione. Quindi non si fa più solo a un riferimento di catastrofi sulla Terra, ma si sta parlando piano piano anche di un qualcosa di più ampio che possa aver provocato tutto questo, o mi sbaglio. Beh, certo, sì, bisogna vedere pure il racconto a dove viene descritto. Magari c'è chi li descrive in un modo meno specifico perché ha ricevuto meno danni da tutto quello che può essere stato il disastro a livello mondiale. Chi ha ricevuto più danni ne parla in modo più specifico, magari perché ha assistito pure all'evento impattante, ecco. Sì, sì, no, ma infatti dicevo, mi incuriosisce tantissimo il fatto che ci sono dei particolari andando avanti su altri miti, che non dice solo quello, ma aggiunge anche delle precisazioni in più, questo intendevo. Sì, giustissimo. Allora, questo è un libro di un ricercatore amatoriale, diciamo... Uno dei pionieri in questo settore, che è Graham Hancock, dove dal libro Impronte dei dei Fingerprint of Gods, in inglese, parla proprio di questo ultimo stadio glaciale, del fatto che una cappa di ghiaccio che probabilmente aveva impiegato 40.000 anni a formarsi, cioè quella del Nord America, sparì quasi del tutto in 2.000 anni, che è una cosa abbastanza sensazionale. È senz'altro ovvio che questo non poteva essere il risultato di fattori climatici e evoluzione graduale, normalmente chiamate in causa per spiegare i periodi glaciali. La rapidità con cui si verificò questa deglaciazione fa pensare che qualche fattore eccezionale abbia influito su di esse e sul clima. Le date indicano che questo fattore si fece sentire per la prima volta circa 16.500 anni fa, che distrusse la maggior parte, forse tre quarti, dei ghiacciai nell'arco dei successivi 2.000 anni, e che la stragrande maggioranza di questi drammatici sviluppi ebbe luogo nel giro di un millennio o meno ancora. questo è praticamente il preambolo, se così vogliamo chiamarlo, della prossima presentazione che farà Mattia, inerente proprio all'ultimo periodo interglaciali, cioè lo step prima in cui è comparso l'uomo istruito. Quindi Mattia ha fatto una grande presentazione e oggi abbiamo solo analizzato tutti i miti per mettere in evidenza il fatto che qualsiasi parte del globo, credo anche se a livello locale, specialmente qui in Italia, andate a vedere in qualche paese o quant'altro, c'è sicuramente anche da voi qualche mito, leggenda, racconto popolare che parla di questo evento, perché è rimasto impresso proprio nella memoria di tutti i popoli e in ogni parte del mondo, sia che avessero contatti o meno. Niente, volete aggiungere qualcosa? Io volevo, se posso aggiungere una cosa su, se puoi tornare sulla slide degli indiani dei grandi laghi. Questa? Esatto, e così posso anche un attimo introdurre quella che sarà la prossima puntata, come dicevi prima, ecco che non è un caso che questi nativi, proprio di quel luogo specifico, ti raccontino questo mito, perché da quello che sta venendo fuori attraverso la ricerca scientifica più moderna, sembra proprio che la zona dei grandi laghi sia stata interessata, meno 12.850 anni fa, da un impatto cosmico derivato proprio dall'incontro del nostro pianeta con i frammenti di una cometa che si sono schiantati sulla calotta nordamericana. Quindi ecco, non è un caso che questo gruppo di nativi ci parli di questa cometa. quindi sicuramente qualcuno dei loro avi l'avranno visto in diretta purtroppo, però è stato talmente fortunato da poi leggerlo l'accontare e l'accontare alle generazioni successive affinché arrivasse a noi. Comunque ragazzi, un saluto e ci vediamo alla prossima puntata con Mattia e Serena sempre, dove andremo ad analizzare il super evento dello Younger Dryas. e niente, buonanotte a tutti. Buonanotte, buonanotte.